Oggi figlio mio parleremo di api e di fiori Un cane! Questo bunker non è un albergo, lo capite? Ed, dove cazzo sei finito? Questa è la famiglia più disgraziata del pianeta Io lo sapevo che ci avrebbe salvato, me lo sentivo La famiglia nuclearizzata è tornata Se volete subito domani la seconda parte di questo video epico Arriviamo a 40.000 mi piace So che potete farcela Quelli che sono le belle, perché comunque Sostente la serie e buona visione Mamma mia, episodio epico So much fun So much fun Pronto? Cosa? È arrivata l'apocalisse pure qua Ma che due coglioni Sorri Bene ragazzi Qua è Stepney Bentornati in questo nuovissimo video della serie di 60 Seconds Ogni episodio sta andando sempre alla grande Quindi sono veramente contento di questa cosa E di aver riportato questa serie sul canale Mi raccomando fatevi sentire E spaccate di pollici sto video Nel senso proprio dovete prendere il pollice E schiacciarlo contro lo schermo del vostro telefono Così Così Non perdiamo tempo andiamo a giocare Hanno aggiunto una nuova sfida a quelle disponibili Abbiamo già fatto vacanze e luna di miele Adesso abbiamo babysitter Che voi giustamente non leggete Adesso leggete anche voi babysitter E io sono diventato l'ultima sfida Quella con i punti interrogativi La sfida è la medesima dell'altra volta Soltanto che abbiamo degli oggetti ben precisi da prendere Iniziamo subito La ricompensa sarà il cappello per bambini Va benissimo Dobbiamo prendere il libro di Germaine Motte Timmy Mary Jane Oh santo Dio Via Iniziamo da lei Che la buttiamo subito dentro Così facciamo spazio Poi prendiamo un po' di provviste Tutto il cibo E qua in cucina Buono Non ce ne serve più Piuttosto ci servono due bottigliette d'acqua Oh non le prenderà mai Quelle lassù in cima Prenditi Mi prendi l'acqua La mamma non ci serve Via 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 Correre L'ultima bottiglietta d'acqua qua Le carte Dove le hanno messe le carte al gioco La scacchiera Il libro Dove cazzo Dove cazzo sono le carte Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Provvediamo a prenderlo Le carte La torcia Ho poco tempo Corri Corri papone Sì L'abbiamo fatta È finita La sfida del babysitter È portata a casa Che carini Che sono col cappellino Con scritto Dimmi Tutto questo in realtà Non serve a niente Una nuova sopravvivenza A inizio L'apocalisse Sta per schiantarsi Sulla terra E tutto ciò Che dobbiamo fare noi È portare in salvo I nostri cari Per il momento almeno Quindi partirei Da nostra moglie Toh comunque La tazzina E l'ipad in mano Prendi il cibo Prendi l'acqua Giù in buca Ah questo non significa Che lasceremo qua La nostra radio Assolutamente Per nessun motivo Al mondo Qua dentro Non c'è più niente Oltre al lucchetto Bene La valigia Non la porto Tanto non mi è mai servita Prendi il fucile Ah no Non ho trovato troppo Sì insomma C'è troppo spazio Vieni vieni Corri 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 C'è da prendere Timmi Lo giovane marmotte Un botto di roba ancora Timmi cosa pensi Di fare lì per terra La maschera Non ho intenzione Di lasciarla Per nessun motivo Al mondo Vai 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 Vola Come se non ci fossero Domani Ci sono le poltrone Che girano a tutto spiano La mappa La mappa La mappa Brava Via 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 No non posso lasciare Mary Jane Mi dispiace troppo Vieni qua schifosa No no Mi dispiace Mary Jane Scusa Torritet Ho preso la zuppa Invece di prendere Mary Jane Non l'ho fatta apposta Vorrà dire Che forse stavolta Capiremo se era lei Il sassolino nella scarpa Ci abbiamo un botto di cose È tutto molto figo Siamo riusciti ad entrare Quasi tutti nel rifugio Quasi Adesso dobbiamo solo Inventarci dei modi creativi Per servire la zuppa in scatola Che culo C'era la valigia sotto Con tanto di scacchiera Quindi non l'abbiamo presa I nostri scaffali Sono pieni di barattoli Mangeremo barattoli Dormiremo sui barattoli Ci parleremo anche con i barattoli Anzi Qualcuno di noi già lo fa Stavolta non facciamo errori Che sia chiaro Servirò questa famiglia Con molta diligenza E non li manderò fuori le radiazioni Stamattina appena svegli Abbiamo sentito gocciolare Abbiamo notato che c'era qualcosa Che fuoriusciva dai tubi Bene Servirà il nostro bellissimo manuale Noi leggiamo e ci dice Contro questo devi fare così E sopravviviamo in questo modo qua Vedi? Problema risolto Niente perdita Niente guai La zona è ancora molto radiattiva Mi dice il mio bellissimo libriccino Quindi aspettiamo Con calma Nessuno ha furia di andare fuori Per quanto vogliate traslocare Non è fattibile Come ben immaginate No? Direi Bevete tutti un po' d'acqua Andiamo subito avanti Abbiamo iniziato a sentire un odore strano Non appena svegli Cosa c'è che non va? Qualcosa o qualcuno Ha piccato un incendio Le fiamme già divampano Non possiamo salvare tutto Cosa mettere a riparo? Porca miseria Facciamo così Siamo ancora al giorno 4 Quindi la radio non è così importante Io salvo il libro delle giovani marmotte Perché la radio Forse possiamo ripararla Hanno usato la bottiglietta d'acqua C'è qua giù in fondo Per spengerlo eh Mannaggia Allora ma com'è che fa a prendere fuoco? Questa è la famiglia più disgraziata del pianeta Se c'è una cosa a cui non possiamo rinunciare È il manuale scout Ovviamente Uscire in questo momento è pericoloso A meno che qualcuno non abbia voglia di ammalarsi No? Sto benissimo così La claustrofobia è difficile da combattere Specialmente in un bunker così piccolo e caotico Se potessimo soltanto aprire la porta per qualche minuto O far entrare un po' d'aria No! Entrano le radiazioni Ragazzi Date retta a me La porta chiusa è stata la scelta migliore Lo so bene È il giorno 6 Per quanto mi riguarda Possiamo farli mangiare domani Ma senza problemi Qualcosa non quadra Vediamo Il ronzio del ventilatore c'è Strani rumori nell'ettubatore ci sono Urla infernali dall'esterno ci sono Uh un momento Dolore sta in silenzio da troppo tempo Che strano Sarà bene parlare un po' con lei E parliamoci Problemi familiari Cose simili Vedi abbiamo parlato Lei sta bene Fa bene parlare Hanno sete? Non hanno fame? Com'è possibile che non hanno fame ragazzi? È il giorno numero 7 Non mi hanno chiesto del cibo Quindi io non gli do niente Ve lo dico Magari al giorno numero 8 Sarà bene farli mangiare e bere Esatto Infatti stanno impazzendo Super festa ragazzi oggi Tutti a mangiare e bere Non c'è verso di uscire Perché ci sono le radiazioni Ok È ancora molto radioattivo Ma che due coglioni Cioè così non usciamo mai Oggi ci hanno fatto visita Dei tizi davvero bizzarri Uno di loro imitava il rumore Di un cavallo al galoppo Battendo due pietre Una contro l'altra Va bene E intanto il compagno Fingeva di cavalcare Questo destriero Immaginario Ci hanno detto di aver interpreso La ricerca di una coppa magica Importantissima Purtroppo si sono persi Nella landa desolata Ci hanno chiesto Di dare uno sguardo alla mappa Sicuramente Guarda Un cavallo Il suo destriero Gliela faccio proprio vedere Giorno 10 Ancora ci sono radiazioni Ma che pizza Cos'è sta cosa Non ci aspettavano Telefonate subito Dopo una catastrofe Ingoleare Invece ecco chiaramente Lo squillo di un telefono All'esterno Deve essere la cabina All'altra parte della strada Forse qualcuno dovrebbe rispondere In questa situazione Direi che Dolores È la persona adatta A svolgere questo ruolo No Run Dolores Run Si trattava dei sopravvissuti Della città di Hill Valley Abbiamo iniziato a scambiarci informazioni Poi è caduta la linea Qualcosa deve essere andato storto A loro Ted sembra avere un piano nella fossa Ma come Di già Bevete La contaminazione è ancora molto alta Quindi non se ne parla Perché se esci a fare una spedizione Ti ammali Se esci a rispondere al telefono Va benissimo Che situazioni bizzarre Crea questo gioco Anche se non hanno fame Io direi di darglielo da mangiare Perché fidarsi è bene Non fidarsi è ancora molto meglio Se l'indomani ci sono ancora radiazioni Io me ne frego E mando qualcuno Cioè che due pizze Tanto Dolores Sei immune Non sappiamo com'è la situazione Già meglio Io preparo la spedizione La pazienza si sta esaurendo Infatti sono d'accordo Avevamo pensato fosse una buona idea Andare a velocemente superfici Per vedere cosa stesse succedendo Ma Appena prima di uscire Due occhi animaleschi Si sono accesi nell'oscurità Abbiamo sentito ringhiare In modo terrificante E cosa decidi di fare Prendi la torcia Tiragliela in testa Non lo so Un cane Raga Ho sentito il rumore di un cane Abbiamo deciso di dare un'occhiata Grande sorpresa di un cane Quella povera creatura Era stanca Abbiamo deciso di accogliere Tra di noi per la notte Il giorno successivo Abbiamo aperto la porta Per lasciarla libera E non si è ancora fatta viva Che stronzi Che stronzo Volevo dire il cane Ah Finalmente Una bella giornata Per andare fuori Tocca a Dolores Ragazzi Avevamo deciso Ti do la maschera Tanto o la usi tu O non la usa nessuno Bye bye Dolores Bye bye Oggi figlio mio Parleremo di api E di fiori No forse sei ancora troppo piccolo Timmy Bevete Entrambi Così molto con calma E il giorno 16 Finisce in un batter d'occhio Che neanche ce ne siamo accorti Durante la notte Abbiamo sentito dei rumori Sospetti provenire da dietro la porta Stamattina abbiamo aperto piano piano Trovando lì una valigia di pelle Non riporta l'indirizzo Nel nome Ma siamo certi che sia per noi L'apriamo Ops Per forze Diventiamo ricchi Timmy Cazzo c'era la malaria Dentro la valigia Sembrava un'innocente bottiglia d'acqua Quindi abbiamo bevuto un sorso Abbiamo pensato di essere sfortunati Ma invece proprio per niente L'acqua era un radioattivo Era una specie di armi biologica Timmy Ma che cazzo Con bini Ora stai male Che ti devo dargli da bere da mangiare Così magari si tranquillizza Allarme C'è una banda di pompieri fuori dal rifugio O almeno Sono vestiti come tali Hanno bussato E ci hanno ordinato di consigliarli Tutti i nostri popisti Hanno minacciato di dare fuoco al rifugio Se non ci sottomettiamo Io che pensavo che i pompieri Spegnessero gli incendi Come facciamo ad andarli via? C'è un lucchetto Perché pare ovvio no? I pompieri che scalano i palazzi Buttano giù le porte Con un soffio Peggio del lupo Dei tre porcellini Vengono fermati da un fottutissimo lucchetto Ho tornato Ho tornato Dolores Col medikit C'è il medikit Boni Boni Non credevamo che un piccolo lucchetto Potesse fermarli Invece si è rivelato sufficiente Perfetto Si è rotto il lucchetto Quindi peccato Ma Dolores è tornata E c'ha il medikit con sé Ah che bello L'ha trovato dentro Ha un immasso di intimi femminili Vabbè ne lasciamo perdere È il giorno 19 Forse qualcuno deve bere Io non rischierei Diamo il medikit a Timmy Che ha bevuto pure il giorno prima Mangia Ted Beve Ted No Ted non beve Beve lei E mangia lei E prepariamo subito una nuova spedizione E domani mandiamo Ted Sono sicuro Graffi alla porta Significa una sola cosa Il nostro amico a quattro zappe è tornato Ci siamo affrettati ad aprire la porta Non sa pensare Se potete trattare di una besta mutante Ma la fortuna c'è sorriso Il nostro amico però Si è tornato Gli diamo da mangiare Certo Zuppa per il nostro cagnolino Peccolino Peccolino Qualcuno ha tossito però Ho sentito Il cane si è ripreso in meno di un'ora Non sappiamo cosa mettano in quelle zuppe Ma sono decisamente buone Il lumpis ragazzi È il lumpis Abbiamo deciso di dargli un nome Pancake Vieni qui Pancake Bravo Pancake Pancake è rimasto per un po' In nostra compagnia Ma il mattino seguente Se n'è andato Oh sta a casa Non è un albergo Lo capite Eh volevo dire Questo bunker non è un albergo Lo capite Ora Timmy è sano come un pesce Perfetto Ted invece sembra avere Un piede nella fossa Ma perché To Tu mangia Tu bevi Siamo tutti felici e contenti Abbiamo fame provviste ragazzi Cioè stiamo per morire Non so se si è resi conto No aspettate No non glielo do da bere a Ted Non ha senso Cioè Tanto va fuori adesso Quindi to Vai con questo Ti prendi Neanche la maschera Si la maschera La maschera va benissimo Quasi quasi To anche a sto punto qui nella mappa Devi andare lì Vola Ted Vola come una libellula Bene Ted non c'è più Timmy è allo stremo Tu mangia Tu mangia E per adesso va bene così Non abbiamo una radio Per salvarsi Che grazie ai militari Quindi dobbiamo solamente Aspettare Ted E la cosa buffa Che mi viene in mente adesso È che non abbiamo cibo Ma abbiamo dato una zuppa Intera al cane E va bene Va benissimo Dolores vorrebbe mangiare qualcosa Ma hai mangiato ora Timmy vuole bere Oggi è il compleanno di Timmy Anche l'anno scorso Abbiamo atteso Fino all'ultimo momento Che prendergli un regalo Ma ora le nostre possibilità Sono limitate Ciò che possiamo trovare Qui nel rifugio Ti regaliamo il suo libro Delle marmotte Sarà felicissimo Al settimo cielo Vero no? Dolores inizia a avere Delle fossette in faccia Qui devono mangiare ragazzi Come fo? Non sappiamo se Timmy Diventerà un boy scout Dopo questa povalissima Sicuramente Nelle sue mani Mano le scout Si è trasformato in un'arma Letale contro i ragni Diamo un goccio Diamo un goccio d'acqua A Dolores Il nostro cestino fa schifo Il lato positivo Perché toglie l'appetito Appena lo guardi Così ci risparmiamo il cibo Per qualche motivo Ti piacerebbe togliere Questo tugurio Quegli scarafaggi verdi E giganti Sicuramente ci incentivano a farlo Usiamo il libro De Giovanni Marmotte E tam 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 Ted dove cazzo Sei finito Perfetto Per un giorno Che non rompono i coglioni È bellissima sta cosa Incrocio le dita Una porta E Ted Con una tonnellata d'acqua Credo che Ted Abbia avuto giorni migliori E incontriamo Su una prateleria Come un cartas Che dia Tutto Pur 99 centavos Ma so restav Graffascagua Che por esse preco È un rombo Si si Mi spieghi Che cazzo hanno detto Sto giocando a un giochino Per fare un video E Dall'italiano passa Dallo spagnolo a caso Insomma Sono riusciti a prendere Dell'acqua Un medikit La radio E hanno perso però La maschera Timmy non beve da troppo tempo Timmy è stanco Eh che caspita Devo inventarmi ragazzi Cioè io posso dare Anche da bere A tutti quanti Ma il mangiare è finito Qui dobbiamo assolutamente Fare una spedizione Ma nessuno può andare fuori Perché Non posso andare a trovare Le sorelle gemelle Degli altri Già ho perso Mary Jane Figuriamoci Esistete ancora un giorno Che facciamo la spedizione Tranquilli Sono tutti deboli E stanchi Va bene Nessuno può andare a fare Allucinante Sta cosa Appena abbiamo sentito Abbagliare Ci siamo precipitati Verso la porta Questa volta avevamo ragione Era pancake Era tornato da noi Ma non voleva entrare Al contrario Era ansioso Di condurci a qualche parte Andiamo Con la mappa Ci porta Dove c'è da mangiare Me lo sento raga Me lo sento Ti prego Ti prego pancake Cibo 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 Grande pancake Grande Cazzo Io lo sapevo Che ci avrebbe salvato Me lo sentivo Mi raccomando ragazzi Ci vediamo domani Pancake is back again No